They left the lights on. Che bello, ragazzi. Ok, dai. Hey, you made headlines. Not a word about the camera, I'm trying to keep everyone calm. Maybe they'll post a correction. Bene, e usciamo. I miei poster sono ovunque. Ok. Ah, controlliamo un po' le mosse che ho. Ok. Ok. Guardate che bello sto mondo cyberpunk. Let's have a look downstairs. Gotta be a leader somewhere. Pole's a little out of date. In fact, Emily's finally gonna catch a break. Yeah. If only. Let's get back to it. When I first saw you up on that stage back there, it was like... Everyone loved you. Everyone accepted them. And they left the light. Yeah. 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 I can hear. I can hear. I can hear. Think I'll go where it's so clear. Moving out to the country. With everyone. Oh everyone. Ed ecco cosa è successo, adesso lo sappiamo. Ed ecco. 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 Non ancora. E abbiamo sconfitto il primo boss, ragazzi. Finiamo quindi con questo nuovo episodio e continuiamo con il prossimo.